La misericordia non è una fuga, non è un'evasione dalla realtà e dai suoi problemi, è la risposta che viene dal Vangelo ed è la forza che può cambiare il mondo. Papa Francesco chiude la sua intensa giornata in Molise nella piazza della cattedrale di Sernia dove incontra la cittadinanza e indice l'anno giubilare celestiniano. Proprio a Sernia infatti nacque 800 anni fa Pietro del Morrone, eletto Papa il 5 luglio 1294 con il nome di Celestino V. Quest'ultimo e San Francesco d'Assisi, ha detto il Pontefice, hanno avuto un senso fortissimo della misericordia di Dio. La misericordia, l'indulgenza, la remissione dei debiti, ha chiarito il Pontefice, non è solo qualcosa di devozionale, di intimo, un palliativo spirituale. È la profezia, ha detto Papa Francesco, di un mondo nuovo in cui i beni della terra e del lavoro siano equamente distribuiti e nessuno sia privo del necessario perché la solidarietà e la condivisione sono la conseguenza concreta della fraternità.